In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne sono state tante le iniziative in città. Nell'ambito di queste, l'Istituto di Istruzione Superiore a Medeo d'Aosta, il Rotary Club L'Aquila e il Dipartimento Universitario Mesva hanno incontrato gli studenti con la finalità di condividere la convinzione che le sopraffazioni nei riguardi delle donne non siano più tollerabili. Uno degli aspetti meno trattati però è quello della psicologia dell'uomo che offende. Secondo il professor Massimo Casacchia, professore merito di psichiatria dell'Università dell'Aquila, non si tratta per lo più di raptus ma di processi lunghi per cui tanto si può fare nel campo dell'ascolto e della prevenzione per non lasciare cadere nel vuoto tanti segnali che poi possono sfociare nella violenza vera e propria. È una domanda cruciale perché in realtà questi fenomeni di violenza non sono dei raptus, non sono improvvisi ma in realtà sono il prodotto, come diceva lei, di un'elaborazione lenta, inarrestabile che avviene dentro la mente della persona la quale poi lentamente decide di vendicarsi in base forse alla gelosia, a tutta una serie di cose che sappiamo. Per cui adesso si cerca di capire che siccome non è una cosa improvvisa, i segnali premonitori, come lei sa, ci sono. Per cui si mette adesso, ho visto anche in Italia, Firenze, tanti anni, speriamo anche in Abruzzo, siamo degli sportelli di ascolto affinché alcuni uomini, certo non tutti purtroppo, abbiano la possibilità di trovare un ascolto non troppo giudicante, non repressivo, affinché poi possano eventualmente cambiare strada. Quindi è un processo, come diceva lei, che va comunque affrontato. Le violenze nei confronti delle donne devono suscitare indignazione nella comunità che deve assumere il ruolo di accoglienza e di sostegno nei riguardi della donna offesa minacciata da uomini che interpretano una cultura arcaica che dovrebbe essere superata in tutti gli ambiti della vita sociale. Per questo, per la dirigente scolastica dell'Istituto Maria Chiara Marola, è fondamentale parlare ai più giovani. È importante educare i ragazzi, sensibilizzare, far capire che certi comportamenti violenti, la violenza fisica ma anche la violenza psicologica, le proibizioni, le limitazioni alla libertà della donna sono pericolose e devono essere completamente sradicate dal nostro profilo di esseri umani. Grazie. Grazie.